San Calò a mano ai carusi, quando il culto diventa arte e cultura. Una bellissima serata d'arte intorno alla figura del nostro caro e amato San Caloggio. Sarà, ripeto, una serata ricca di interventi artistici e la serata è organizzata dall'Associazione Libero Canto di Caglio che è il nuovo piccolo teatro di Agrigento. San Calò, che è il simbolo più nobile della fratellanza, dell'accoglienza, della benevolenza nei confronti degli altri, degli umili, dei reietti. Non sappiamo nemmeno lontanamente cosa sia il razzismo sulla base della pelle, della discriminazione razziale di qualunque tipo. Vi aspettiamo venerdì 30 agosto alle 21 al Teatro dell'Etrevo di Agrigento per San Calò, Mano e Carusi. Prenotate subito il vostro posto per non perdere questo fantastico evento.